Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di xemax11 questo shop è alquanto meraviglioso e vi ricordo che per supportarmi in maniera totalmente gratuita codice creatore xemanoele97 e ricordatevi che scade ogni 14 giorni quindi rinnovatelo ragazzi detto ciò passiamo al video ragazzi è uscita sfera di neve ragazzi questa skin che è bellissima con questa ampollona con questo albero di natale inserito con questi stili e con questo backpack che richiama proprio la skin direi alquanto meravigliosa questa è una skin epica valore 1500 vpack per averla nel proprio armadietto di gioco ovviamente vi faccio vedere i due stili ovviamente anche il backpack ha più stili e c'è questo lama disegnato nel maglione direi una bellissima skin ragazzi dopo passiamo avanti abbiamo azza artica del capitolo 2 della stagione 5 questo nuovo piccone del valore di 800 vpack raro per averlo nel proprio armadietto di gioco fa parte del set scontri polari poi abbiamo alberato ragazzi questo deltaplano che richiama proprio il natale questo nuovo deltaplano valore 500 vpack non comune per averlo nel proprio armadietto di gioco poi abbiamo omaggio per i partecipanti ragazzi questa è molto simpaticissima che lancia questi coriandoli del capitolo 2 della stagione 5 300 vpack per averla nel proprio armadietto di gioco ragazzi poi ragazzi andiamo avanti e c'è razzo questa skin del battle breakers capitolo 2 della stagione 4 1200 vpack per averla nel proprio armadietto di gioco ragazzi poi abbiamo una skin rara con questo back pack con questo orsacchiotto che è davvero simpatico ragazzi poi abbiamo battle breakers come musichetta rara 200 vpack per averla nel proprio armadietto di gioco poi abbiamo Kuro Omura questa skin del capitolo 2 della stagione 4500 vpack anch'essa epica guardate che muscoli e che predominanza che ha questa skin davvero davvero simpatica proprio poi abbiamo fiamma argentea 500 vpack rara questa animazione che è davvero davvero simpatica anche questa qua ragazzi vediamola per tutte le armi con questo rosso e questo bianco finale che ci sta davvero davvero bene ci sta soprattutto benissimo con la skin precedente dopo abbiamo il bombardiero scuro ragazzi è tornato finalmente prepotentemente fa parte del set tuoni e fulmini della stagione 6 ragazzi bellissima e fa parte della serie oscura ragazzi questa skin ovviamente ce l'hanno un po' tutti ragazzi bella 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 davvero poi abbiamo crash tonnante questo piccone ovviamente della serie oscura 1200 vpack è un piccone reattivo sentiamo il sound ecco qua con questo la mozzo scuro finale di questo bellissimo piccone poi abbiamo ovviamente il deltaplano glifo oscuro 500 vpack stagione 6 tuoni e fulmini poi abbiamo destino ragazzi fa parte del set stregone della stagione 4 skin leggendaria del valore di 2000 vpack questa skin triardina con questo cappuccio che nasconde i suoi capelli da try harder eccola qua vediamola meglio nel dettaglio con questi colori molto scuri poi ragazzi abbiamo questa musica rara del capitolo 2 della stagione 4 200 vpack per averlo nel proprio armadietto di gioco questo nuovo sound poi abbiamo rinnegato della stagione 1 questa skin non comune ragazzi vediamola con questo suo assetto rosso con questa collanozza ragazzi vediamola per bene tutto il suo stile con questi capelli corti da militare proprio poi abbiamo febbre della disco della stagione 3 febbre di fortnite 800 vpack per averla nel proprio armadietto di gioco vediamo come balla la nostra bombarola al suon di musica poi abbiamo è complicato ragazzi la vita è complicata e fortnite ce lo fa capire ancora di più con questo balletto del capitolo 2 della stagione 3 500 vpack rara poi abbiamo segna punti 0 qua ci segna il numero 0 ragazzi perché lo 0 viene sempre prima dell'uno ragazzi ricordateve lo stagione 6 non comune 200 vpack e poi abbiamo ancora l'investigatore la nostra detective e il nostro noi che ci sono stati spoilerati oggi pomeriggio e poi abbiamo ancora che in milite bruciatore sbricciolatore di rami e tutte le altre skin natalizie che avevamo negli scorsi giorni ancora halo e ancora il pacchetto leggende porali detto ciò ragazzi se mi volete supportare in maniera totalmente gratuita codice creatore x manuele 97 ricordatevi di rimetterlo perché ogni 14 giorni scate detto ciò ragazzi grazie per l'attenzione se vi è piaciuto lo shop un bel like e ci vediamo ad un prossimo video ciao ragazzi